Ciao, eccomi qui con un video che ti potrà essere utile in questi giorni, in questi giorni in cui magari sei a casa. Ho detto tante volte proprio in questi giorni che questo può essere un periodo importante per prendersi cura di te, per mettere in discussione tanti aspetti della tua vita. E quindi ho pensato di proporti un lavoro pratico proprio per aiutarti in questo passaggio, in questa esplorazione e magari anche in questa trasformazione. Bene, sei pronto? Sei pronta? Cominciamo! Allora comincia a fare due elenchi. In un elenco metti tutti gli aspetti della tua vita che non ti piacciono, compresi magari alcuni tuoi comportamenti, abitudini, abitudini depotenzianti, magari il lavoro, se non ti piace il tuo lavoro, vorresti fare qualcos'altro, metti anche quello. O magari il tipo di relazioni, i tipi di relazioni che sviluppi e alcuni aspetti proprio di te e della tua esistenza. Bene, stila un elenco con tutti i particolari. Poi fai un altro elenco. Che cosa non ti piace del mondo? Sembra una cosa grandiosa. Ebbene, puoi lavorare anche a questo livello. Quindi, comincia a fare questi due elenchi. Iniziamo dall'elenco degli aspetti che non ti piacciono nella tua vita. Allora, che cosa farai? Andrai a lavorare ovviamente su questi aspetti con la Divine Connection. Su credenze limitanti, su ogni aspetto appunto andrai a lavorare proprio sulle credenze limitanti, su cosa pensi proprio in quegli ambiti della tua vita, su quali sono i limiti che hai pensato di avere, su cosa pensi che sia possibile o non possibile. E anche sui benefici secondari che ti hanno trattenuto dall'andare oltre. Ok? Quindi, mettiamo caso che non ti piaccia il tuo lavoro. Ok? Bene. Allora, quali sono le tue credenze limitanti sul lavoro? Magari potresti avere tra le tue credenze il fatto che hai bisogno di lavorare per vivere, che hai bisogno di avere un lavoro fisso, che hai bisogno di tutta una serie di sicurezze. Potresti pensare di non meritare di fare di più, di avere di più. O potresti credere che cosa voglio io più di questo. E ci sono tanti altri aspetti. In più vai a lavorare sui benefici secondari. Sui benefici secondari che ti hanno trattenuto dal fare questa trasformazione. Perché penso che se tu dovessi non amare alcuni aspetti della tua vita, non è che te ne sei reso conto proprio adesso che te l'ho chiesto io, ma lo sapevi già a monte. Quindi mettiamo caso sempre che sia il tuo lavoro uno degli aspetti su cui vuoi andare a lavorare, su cui vuoi mettere in discussione. Ebbene, perché non hai ancora cambiato lavoro? Quali sono le tue credenze e anche quali sono i benefici secondari, ossia perché ti fa così comodo stare in quella situazione anche se non ti piace? Qual è quella coperta calda, quell'aspetto dello stare lì che ti fa sentire così al sicuro? Magari non ti vuoi mettere in discussione, magari ti fa sentire al sicuro perché è una situazione conosciuta. Esplora bene con molta attenzione e vai a lavorarci proprio con la Divine Connection. Ok? Quindi se tu non dovessi conoscere, dovessi vedere questo video e non dovessi ancora conoscere bene il metodo, lo puoi trovare sul libro Divine Connection che trovi su Amazon. e quindi vai proprio a lavorare su questi aspetti. Poi che cos'altro puoi fare? Puoi andare a prendere l'altro elenco. Quello è un po' più complicato. Perché? Perché già ti farà strano andare a prendere in esame gli aspetti che non ti piacciono magari del mondo, le cose che hai osservato nel mondo, nella vita attorno a te e che non ti hanno fatto sentire bene. Come puoi lavorarci? Beh, ricordiamoci che tutto quello che accade intorno a te è il tuo specchio. Quindi andrai non a lavorare ovviamente sulle situazioni a cui puoi portare sicuramente amore, puoi mettere informazioni, risorse, buone intenzioni nel DC Point che tu magari conosci. Ecco questo, se dovessi essere la prima volta che mi vedi o dovessi vedere questo libro e non conosci ancora il metodo Divine Connection lo puoi trovare o all'interno del gruppo, all'interno del gruppo c'è un video dove ho spiegato cos'è il DC Point oppure sempre sul libro Divine Connection. Quindi cosa c'è in te di quell'aspetto che non ti piace del mondo attorno a te, della vita attorno a te? Che cosa giudichi nel mondo attorno a te? E quindi questo è un aspetto, il giudizio che hai all'interno e questo si riflette nelle situazioni che ti si presentano davanti. Oppure potrebbe esserci qualcosa che ti neghi. Quindi qualcosa che tu ti neghi, vedi che attorno a te, ad esempio mettiamo caso che tu non sopporti l'arroganza di alcune persone. Ebbene, l'aspetto arroganza è una delle cose che non sopporti nella vita e nel mondo attorno a te. Ebbene, magari se tu vai a vedere dentro di te potrebbe essere qualcosa che tu ti neghi. Magari non tanto il fatto di essere arrogante che non ti piacerebbe, ma magari metterti un pochino più in vista, prenderti il tuo spazio, permetterti di prendere il tuo posto nel mondo. Potrebbero essere degli aspetti che tu ti neghi. Quindi vai a lavorare su questi aspetti. Oppure ci potrebbe essere dentro di te qualche cosa che ti fa sentire comodo, oppure magari una paura, oppure magari una mancanza. Se tu vivi con la mancanza, magari il mondo attorno a te ti fa vedere magari delle persone che vivono male, che magari muoiono di fame, magari che sono abbandonate sulla strada, che non hanno una casa, eccetera, eccetera. E potrebbero essere degli aspetti che ti fanno soffrire. Quindi vai a prendere tutti questi aspetti, vai a fare queste considerazioni su di te, vai a lavorarci con la Divine Connection. Mi raccomando, perché è importante. È importante perché il mondo ti fa da specchio. Inoltre, ovviamente, anche in queste situazioni, vai a lavorare sempre sul beneficio secondario, che ti ha portato magari a nasconderti, ad odiare quindi le persone arroganti, e l'arroganza che puoi vedere tutto attorno a te, perché magari hai un beneficio secondario. Hai un beneficio secondario nel non metterti in mostra. Magari ami sentirti protetto e sicuro, magari non ti vuoi mettere in discussione. Magari, magari, magari hai paura di essere giudicato dagli altri. Tutti questi sono benefici secondari. E anche su questi ci vai a lavorare con la Divine Connection. Prendi in esame, sia in merito alla tua vita, sia in merito alle situazioni del mondo, quindi del mondo attorno a te, un aspetto per volta. E vai a vedere proprio tutti questi punti che ti ho elencato. Puoi andare molto in profondità. Puoi andare molto in profondità, e questo ti può aiutare veramente a guarire alcune tue ferite. E anche poi a prepararti, a prepararti a fare delle trasformazioni nella tua vita. Perché nel momento in cui tu hai lavorato sulla tua parte, magari emotiva, sui blocchi che puoi avere, sulle credenze, sulle informazioni che ci sono in te, allora ti stai preparando a fare un cambiamento. Ovviamente anche attraverso le azioni e le scelte che farai nella tua vita. Ma nel momento in cui tu non hai più delle paure, delle credenze limitanti, sarà molto più semplice trasformare quegli aspetti della tua vita che non ti piacciono. perché se tu credi ad esempio di non essere degno, di avere niente di più di quello che hai in questo momento, è importante che tu prima ci vada a lavorare, perché se dovessi compiere delle azioni non avresti la sufficiente energia per poter attuare questi cambiamenti. Se non ci credi tu stesso, come pensi che la vita ti possa favorire quando tu ti metti in moto proprio per cambiare qualcosa. Quindi è molto importante andare a lavorare su questi aspetti, perché nel momento in cui tu lavori a questo livello, cosa stai facendo? Ti stai allineando. In più, quando hai lavorato sugli aspetti, diciamo negativi, se vogliamo così dire, vai a sentire dentro di te quali sono quelle risorse che ti potrebbero aiutare. Quindi non ti chiedo di creare delle credenze potenzianti, perché comunque per quanto potenzianti potrebbero essere comunque delle etichette e dei limiti. Ti chiedo piuttosto di risvegliare delle risorse. Quindi magari se tu non osi perché hai paura di, magari risveglia il coraggio, risveglia la consapevolezza di essere un essere divino e questa è una consapevolezza, non è una credenza. Quindi nel momento in cui tu hai lavorato sia sull'aspetto di blocco e di limite, sia sull'aspetto potenziante, allora sei in grado di andare a stilare un elenco di azioni che puoi compiere in modo pratico appena avrai la possibilità. Magari ci sono già delle cose che tu puoi cominciare a fare in modo pratico da ora. Quindi mettiamo caso che tu abbia lavorato sull'aspetto del lavoro. Magari non ti piace quel lavoro, puoi cominciare a fare una lista ad esempio di quello che ti piacerebbe fare, qualcosa che metta in luce magari i tuoi talenti, eccetera, eccetera. Puoi cominciare a fare delle ricerche. Quindi ti puoi già mettere in moto, in modo pratico, questo per quanto riguarda gli aspetti della tua vita, in modo da trasformare le cose attorno a te. Per quanto riguarda gli aspetti del mondo, se ci sono delle tematiche su cui magari puoi intervenire, allora anche lì potresti fare delle azioni. Ti faccio un esempio, se tu vieni colpito dalle persone magari che trovi in mezzo alla strada, che sono senza un tetto, eccetera, eccetera, potresti fare un elenco di azioni che tu puoi andare a fare per alleviare, per rassicurare, per portare conforto a queste persone. Ma quello ovviamente è una scelta. Questo non può essere un obbligo, è qualcosa che devi sentire tu dentro di te. Ok? Quindi spero di essere stata chiara. Questo è un lavoro bellissimo e molto molto profondo. In questo modo tu metti in atto una bellissima energia. E visto che ho notato che ci sono alcune persone che si fanno, diciamo, trasportare dalle informazioni che bombardano, ci bombardano in questi giorni, a me un po' meno perché non ho la televisione, però comunque in questo modo puoi usare il tuo tempo in un modo costruttivo e ricordati, ricordati di rimanere sempre connesso all'amore perché quando tu sei connesso all'amore sei in uno stato bellissimo e costruttivo. Quindi fai questo sforzo. Più volte entri in Divine State con la Divine Connection ovviamente e più sei connesso all'amore. Quindi questo ti aiuta a tantissimi livelli. Ok? Spero che questo video ti sia utile, ti sia piaciuto. Quindi ti suggerisco se non dovessi ancora essere nel gruppo Divine Connection di entrare nel gruppo Divine Connection per avere tantissimi contenuti perché non sono tutti disponibili da tutte le parti, li puoi trovare nel gruppo Facebook Divine Connection. Ok? Ti auguro un buonissimo lavoro e fammi sapere come va. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao!